Incontrerò la famiglia nelle prossime ore, purtroppo la tragedia è una tragedia che ci colpisce in maniera profonda e in maniera molto dolorosa perché è una famiglia molto tranquilla, molto serena che ha sempre cercato di accudire questo figlio in tutti i modi. Le testimonianze belle che mi stanno arrivando anche in questi giorni dagli altri concittadini è che tutti mi confermano l'amore che questi genitori hanno sempre avuto nei confronti di questo ragazzo. Quindi un ragazzo che aveva sicuramente dei problemi ma che era molto molto seguito dalla famiglia, si è sempre cercato di fargli superare i momenti più difficili, di aiutarlo, di accompagnarlo. Frequentava scuola, quindi un percorso assolutamente normale purtroppo caratterizzato da questi momenti un po' particolari fino all'epilogo di ieri. La tristezza per certi versi anche in potenza dinanzi a casi di questo tipo perché comunque non sai mai come dover intervenire. Come dicevo appunto l'hanno sempre seguito molto questo ragazzo eppure la tragedia non è stata possibile evitarla. Fino a poche ore fa lui era in giro tranquillamente, è stato in alcuni esercizi commerciali, quindi qualcosa è scattato nella sua testa all'improvviso. Grazie. Grazie. Grazie.